nei loro interventi. Grazie naturalmente a tutti quanti voi per essere qui presenti questa mattina. Io ho colto con piacere l'invito a questo convegno, l'invito è arrivato nei primi giorni dell'inizio del mio lavoro, del mio insediamento, ma mi è sembrato giusto avere l'occasione da subito di partecipare ad un convegno come questo dedicato alla discussione di nuove strategie per il rilancio del nostro settore, del settore dell'editoria. L'argomento è particolarmente stimolante per me, ovviamente, è particolarmente impegnativo per me, lo è ovviamente per voi in questo momento in cui lo stato del settore richiede sicuramente riflessioni approfondite sulle misure e sulle strategie da porre in campo per avviare e per consolidare un'inversione dei trend negativi che caratterizzano i principali fattori industriali e finanziari delle imprese editoriali da quasi un decennio. Quindi ci dovremmo occupare di questo, quali iniziative mettere in campo, quali strategie per invertire questo trend. Naturalmente non aspettatevi da me oggi più che un indirizzo di saluto, un messaggio perché questo vostro convegno coincide sostanzialmente come dicevo con il mio insediamento e anche per ragioni di correttezza istituzionale nei confronti del Parlamento vorrei astenermi dal delineare qui oggi quali saranno le linee programmatiche a cui ispirerò la mia azione. Oggi è un'occasione buona, utile per me per ascoltare le vostre riflessioni, per ascoltare le riflessioni degli addetti ai lavori che quotidianamente combattono una battaglia per continuare a garantire la fruibilità di un bene pubblico fondamentale, qual è l'informazione. Consentitemi soltanto per ora quindi di fare qualche accenno a quelli che saranno i grandi temi e i principi dai quali non si può certamente prescindere nel momento in cui si elaborano delle nuove strategie per assicurare la vitalità del nostro sistema editoriale. E allora la prima cosa che voglio dire è che l'informazione è un bene di tutti, indispensabile per il pieno e corretto funzionamento delle istituzioni di una moderna democrazia occidentale. Questo bene va promosso, ne va preservata la qualità e l'espressione pluralistica, assicurando delle condizioni di sostegno che tengano conto dell'intero sistema e dell'alto rischio di fallimento del mercato di questo settore. La seconda cosa che voglio dire è che ritengo che una chiave essenziale per l'efficacia di un qualunque intervento sia quello di avere un approccio sistemico ai problemi dell'editoria, in quanto le interconnessioni tra le condizioni in cui operano i diversi soggetti della filiera sono obiettivamente molto strette. Basti pensare, qui è stato accennato, ai temi della remunerazione del lavoro giornalistico, della libertà di stampa, che entrambi hanno un diretto riflesso sulla qualità del prodotto finale. Sulla base di queste convinzioni mi propongo di garantire, ho già avuto modo di dirlo, una serie di incontri nelle prossime settimane con gli stakeholders per acquisire velocemente riflessioni, strategie, progetti e per aprire dei tavoli di confronto cui consolidare delle proposte operative. Vedrete da parte mia non mancherà mai questa azione, non mancherà mai la possibilità di un confronto, ci sarà la possibilità di guardare con attenzione ai veri problemi sapendo che solo dal confronto e poi naturalmente dalla capacità di fare delle scelte è possibile compiere, dare vita a delle politiche per la strategia del settore. Sono consapevole del fatto che nei mesi scorsi attraverso i vari eventi degli Stati Generali sono state formulate diverse valutazioni e ipotesi di lavoro ma a me ora sembra giunto il momento, e questo è quello che vorrò fare, delle scelte politiche per offrire al sistema editoriale un quadro di misure aggiornato e funzionale. Questo è il momento in cui queste scelte politiche andranno compiute. Nella mia azione di governo e questo settore, con una visione più complessiva ovviamente del governo, mi muoverò su questa linea. Non v'è dubbio che la crisi dell'editoria, come è stato ricordato, sia in gran parte dovuta alla rivoluzione digitale che si è concentrata in un periodo di tempo molto breve, cambiando in profondità sia il modo di produrre l'informazione, sia le abitudini e le modalità di fruizione dei contenuti informativi. Non occorre dirlo, basta pensare al web, ai social, al network, alla loro capacità di determinare il superamento delle mediazioni professionali consentendo a milioni di individui di entrare in contatto con migliaia di informazioni e di crearne a loro volta, ma con un livello di affidabilità non misurabile. Questo aspetto pone un serio problema di qualità dell'informazione e poi di capacità dei lettori di orientarsi, di discernere, di formarsi un'opinione su fonti attendibili. Di tutto questo, io lo avverto come un tema centrale, la politica non può disinteressarsi perché la democrazia ha tra i suoi fondamenti quello di un'informazione libera, di una stampa libera, plurale, ma pure consapevole del suo ruolo essenziale nella formazione della pubblica opinione e quindi dell'indispensabile ancoraggio alla verità dei fatti. E' un nodo cruciale attorno al quale dovremmo lavorare. Mi muoverò da questa convinzione impegnandomi per la continuità e la stabilità del sostegno pubblico attraverso la valorizzazione delle risorse statali del Fondo per il Pluralismo e la loro finalizzazione ad un vintaglio di misure coordinate capace di sostenere le imprese anche nel loro percorso di innovazione e di incentivare la domanda di informazione e di qualità. A tal fine ritengo che sia essenziale assicurare al settore dell'informazione i proventi dovuti come remunerazione della produzione di contenuti informativi digitali e per questo sono convinto della necessità di combattere con ogni strumento efficace l'odioso fenomeno della pirateria a cui qui si faceva accenno, così come l'uso e la diffusione illegale degli stessi contenuti prodotti dalle imprese editoriali. So bene che la questione della difesa della proprietà intellettuale è stata negli ultimi anni un terreno di scontro, terreno di scontro anche politico in ragione di interessi contrastanti ma credo che questo tema sia un tema essenziale per preservare la certezza di un principio fondamentale qual è quello della giusta remunerazione del lavoro. Ecco, questi sono i cenni fondamentali a cui volevo fare riferimento, questo è il messaggio del mio saluto, questa è l'ispirazione fondamentale che avevo già avuto, modo di rendere pubblica, attorno alle quali muoverò il mio impegno. Io sono certo, come ho detto all'inizio, che solo attraverso il confronto costruttivo tra le parti si potrà aprire per l'editoria e di giornalismo una stagione di rinnovamento. Si tratta di un orizzonte irrinunciabile perché il superamento di tanti nodi, quelli che abbiamo detto qui, altri che verranno fuori sicuramente dalle vostre riflessioni, attengono alla tutela dei diritti, alla difesa del lavoro, alla necessità di attuare un rilancio di ambiti così essenziali per la nostra democrazia. Affrontare e risolvere questi nodi è, secondo me, un dovere impocrastinabile. Per questo vi ringrazio, vi auguro una proficua mattinata, giornata di approfondimento e di dialogo. Avrò modo di ascoltare le vostre relazioni, poi per altri impegni mi dovrò muovere da qui, ma sono certo che già nelle prossime settimane avremo modo di vederci e lavorare. Grazie. Grazie.